e benvenuti ragazzi in questo nuovo video su minecraft io sono daxter678 e oggi sono sul server fear games allora ragazzi oggi oggi ho postato molto in fretta il primo episodio di minecraft perché c'è un taglio che dovevo fare purtroppo non trovavo altri metodi e ho dovuto postarlo subito e ritagliarlo però spero che ne siate contenti di questa cosa nel frattempo iniziamo a andare e mando il mister di va comunque ragazzi come al solito vi chiedo di iscrivervi al canale lasciare mi piace commentare condividete con i vostri amici e lo ripeto che l'ho detto già stamattina ho già detto nel primo episodio che praticamente avrei bisogno che mi rispondete ai sondaggi che avevamo messo negli episodi dell'attacco dei giganti per avere per organizzarmi un po' con gli appuntamenti nel senso sia di minecraft che di aut e cosa è successo ok siamo nella mappa di star wars almeno quello che mi sembra sono innocente che bello come se non mi fosse mai capitato niente di diverso comunque ragazzi chiedo soprattutto una risposta per la batters di già wow direi che l'assassino fa abbastanza pena comunque vi chiedo di rispondere a questi sondaggi più che come ho detto prima mi devo organizzare un po' con gli appuntamenti più che con gli appuntamenti per vedere quali nuove serie posso portare nel senso se posso portare la creativa la sopravvivenza l'estrema o la multiplayer ditemi voi e cioè rispondetemi ai sondaggi e vedremo vedrò cosa posso fare sono di noi 100 oh non cambia mai niente mai ma nemmeno pagando il gioco cambia cambierebbe qualcosa e vabbè comunque ragazzi non so più cosa dirvi no mi hanno fottato loro scusate per il linguaggio però stavolta di aver sistemato qualcosa con il microfono spero che vi piace come l'ho sistemato in questo momento purtroppo non ho potuto fare tutto sto granché ho visto la sop... eh vabbè pazienza non ho potuto fare tutto sto granché però cercherò di rimediare con i rumori esterni per il momento con la finché non mi rispondete finché non mi risponderete con i con i sondaggi io non so più cosa fare cioè nel senso non so cosa portare di minecraft e quindi per il momento finché non mi rispondete finché non mi risponderete i miei sondaggi continuare a portare minecraft multiplayer però vi prego come ho detto per adesso rispondetevi il più presto possibile così almeno inizieremo questa serie ovviamente vi ricordo gli appuntamenti oooooooo che bella la vita che bella che bella che bella è proprio bellissima ok mistery potion che farebbe bisogno in autunno come se non cacchio no oh oh no 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 non mi sparare non mi sparare non sono io innocente uno ok ho ucciso l'assassino manca solo lui manchi solo tu non mi puoi scappare sei fregato non è che ho vinto mai ho vinto se se finalmente vinco nelle modern mystery e pa 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 non mi ricordo più cosa stavo dicendo scusatemi eeeh eeeh ah gli appuntamenti eeeh gli appuntamenti come ho già detto nel primo episodio sono che il da lunedì a benedì porterò gli episodi di attack on titan invece il sabato e la domenica porto gli episodi di minecraft eeeh che altro volevo dire ah ripeto ovviamente gli orari che sono il primo episodio alle tre e mezza e io ho già visto l'assassino alle tre e mezza il secondo episodio alle 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 sei eeeh tenetevi aggiornati attivando la campanellina eeeh ah e iscrivetevi al canale di aliengame07 che vi metterò sotto in descrizione eeeh ho detto tutto posso anche chiudere il video no scherzo quanti venuti ho fatto? 5 ma male non so di aver fatto di meno ti prego non mi dire che sei assassino no ti prego ti prego ti prego nooo non ti avvicinare ma non hai una scusa per avvicinarti nooo nooo ti prego ti prego è lui è Alex è Alex è Alex è Alex è Alex porca miseria è Alex help help dietro dietro amico amico dietro dietro è lui è lui è lui si si oddio mamma mia che ansia mamma mia dai sono sopravvissuto andiamo nella 3 eeeh comunque ragazzi avevo detto che probabilmente c'era una una persona speciale nel senso una comparsa speciale di aliengame07 per l'appunto dove vi chiedo che io ho già chiesto di iscrivervi al suo canale eh però purtroppo non non ha potuto non ho ancora capito per quale motivo però non è riuscita a venire l'ho chiamata più di una volta ma non ha risposto e quindi niente ho dovuto per forza portare il video quindi è così domani vedrò di fabbola portale nell'episodio con lei eeeh comunque ragazzi a proposito di questo vi ricordo di nuovo che se volete un episodio multiplayer di attack on titan basta che me lo scrivete e cercherò di portarlo con un'amica o un amico come volete voi basta che me lo dite eeeh già abbiamo vinto abbiamo vinto si festeggia buon anno vabbè ci sta come ultima cosa andiamo a fare le bad wars eccolo qua madonna quanto ne sono siamo pieni per qualche motivo ok ok mettiamoci qui seleziono team dent Lok coon vabbè niente da casa mi mette nel rosso poi poi un tab едset il condann XV finirà subito quindi ti ero se volete un episodio di attack on titan di multiplayer basta che me lo dite cercherò di fare il possibile ecco siamo 3, 2, 4 hai gli angoli per favore tu, tu gli angoli, lì tu lì porca miseria, tu devi stare là vai là e allora a questo punto mi metto io qua ma c'entra qualcuno no, stai là, stai là, per favore perché se no nessuno vende niente ok io no bardo eh, perché io sì certo, almeno ma ciao ti prego, dimmi che bardi tu guarda tu guarda tu e stanno già iniziando a venire e porca miseria, non possiamo neanche iniziare ai 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 eh, di già, di già di già, di già e niente ragazzi siamo già morti quanti secondi siamo durati? ma nemmeno due allora come schermata finale direi di andare lì comunque sto cercando di creare una foto da mettere come schermata finale e niente ragazzi io il video lo concludo qua ci vediamo nel prossimo ci vediamo domani alle tre e mezza se faccio prima ancora meglio non dispiacere penso e spero che non dispiace a nessuno e tu cosa? Daxter678 che c'è? benvenuto ah sì no, stavo leggendo in alto a destra che c'è scritto A2 Daxter678 benvenuto non mi ricordo più comunque ragazzi iscrivetevi al mio canale lasciate un piace visualizzate ovviamente il video grazie mi fareste un favore visualizzate commentate condividete con i vostri amici attivate la campaniglia e iscrivetevi al canale di elengame07 che vi metterà in descrizione ciao ragazzi ciao